Però vi devo dire che oggi veramente sono emozionato, l'occasione è veramente molto molto importante. Ci riempiamo sempre la bocca sul fatto che da vent'anni l'università ormai si deve occupare anche della terza missione, non solo della didattica e della ricerca, però credo che oggi sia proprio centrale il ruolo che stiamo svolgendo, sia nei confronti dei ragazzi sia anche nei confronti della società civile. L'impegno politico, civile, sociale nel rilanciare un'operazione che è quella della ricerca dell'identità. Ricerca dell'identità è proprio un termine che realmente dà i brividi a nominarlo. Quando la settimana scorsa ne ho parlato alla conferenza dei Rettori alla Cruy, che avremmo promosso questa iniziativa rilanciata, questa iniziativa, il Presidente Stefano Paleari l'ha subito fatta sua. È uscita subito anche sul portale della conferenza dei Rettori e indicato, promossa questa operazione e diffusa in tutti gli Atenei italiani. A fianco la Presidente Stella Carlotto, l'Ambasciatore Torquato di Tella, il Ministro Cerniac e il Console Enrico Calamai. Questo incontro con voi è un lancio che facciamo, che è il primo passo di una campagna che vogliamo lanciare a tutto il sistema universitario italiano. Voi siete i primi interlocutori che abbiamo e quindi quello che vi chiediamo di farvi a sua volta portatori di questa necessità di chiarezza, questa ricerca di persone che potrebbero essere residenti in Italia e che provengono da un passato che forse nemmeno loro conoscono. Quindi si potrebbe dire che noi poniamo un dubbio, che è un dubbio molto comune nei ragazzi, che è un dubbio sull'identità. Cioè, chi sono io? Da dove vengo? Noi poniamo questo dubbio e l'Ambasciata Argentina offre la possibilità di gestire questo dubbio con la massima discrezione. Cioè, chi ha un dubbio può mettersi in contatto sia via email, sia telefonicamente alla Segreteria dei Diritti Umani dell'Ambasciata Argentina e l'Ambasciata Argentina si occuperà di verificare attraverso una banca di DNA che possiedono le nonne di Piazza di Maggio, di verificare se questo dubbio ha qualche base. Questo, primo, grazie Rettore. Grazie, davvero grazie perché credo che poco tempo fa è stato nominato Rettore e già in poco tempo siamo riusciti a mettere in campo questo evento che è stato chiaramente una decisione personale e anche istituzionale però dove le decisioni personali giocano in queste grandi cose. E ovviamente il Rettore Panissa ha dimostrato perché questa università ha il livello di sensibilità, di coscienza sociale che sempre ha dimostrato. Quindi, grazie Rettore. Ragazzi, questa tragedia non è stata in un Paese così lontano. L'Argentina è il Paese più italiano nel mondo dopo l'Italia. Più del 50% discendono di italiani. Nell'elenco dei carnefici e nell'elenco delle vittime uno può trovare molto cognomi italiani. Nel mio posto in ambasciata argentina durante la dittatura era Lissio Geli, il capo della P2 formale, come ponte fra i potenti italiani di quel momento e la nostra dittatura. Non è possibile capire lo che ha successo in Argentina senza capire che indietro del terrorismo di Stato c'è stato un progetto neoliverista di esclusione sociale dove era necessario massacrare una generazione della vostra età. E quindi questo è il nostro impegno. Il nostro impegno è vedere e dimostrare che i cittadini italiani sono sensibili, che hanno la capacità di assumere questa responsabilità storica e costruire con le reti sociali il rapporto con gli altri giovani di tutte le regioni, di tutte le università, di davvero mettere in campo tutta l'energia per dire che dobbiamo trovare questi ragazzi perché qualcuno di loro sono qua. Di questi 109 che le non hanno ritrovato, il 90% sono stati ritrovati in Argentina, ma ancora alcuni di loro sono stati ritrovati all'estero, nessuno in Italia ancora. E noi siamo sicuri che qualcuno c'è. È difficile trovare parole da dire dopo questo filmato, soltanto che è una ferita, una ferita direi impensabile, quella di sottrarre l'identità. C'è qualcosa che rimane come incomprensibile. In qualche modo in Argentina è rinato il nazifascismo, quei mesi terribili che Roma ha conosciuto, di vittime e di resistenza, ecco, si è riprodotto in Argentina. soltanto che, ecco, il 24 marzo del 44, l'atrocità delle fosse ardiatine, nell'Argentina dei militari si è ripetuta di giorno in giorno fino ad arrivare a una cifra, anche questa difficilmente comprensibile, di 30.000 desaparecidos. Qui sono da aggiungersi le migliaia di fucilati e le migliaia di condannati praticamente all'esilio per sopravvivere. Ecco, tutto questo è stato detto, è stato fatto per piegare il popolo argentino all'accettazione col terrore, nel dolore, nell'atrocità all'accettazione del neoliberismo e al saccheggio delle multinazionali. e in questi 36 anni che abbiamo lavorato con le abueli, abbiamo costruito una istituzione molto complessa. In 30 anni di lavoro delle abueli abbiamo costruito un'istituzione molto complessa. All'inizio c'erano solitudine e paura che si sono poi trasformate in lotta negli anni seguenti. sapevamo che avremmo anche potuto correre il rischio di essere sequestrate Ma certo la paura non ferma una madre che sta cercando il proprio figlio scomparso perché ciò che la muove è innanzitutto l'amore nei confronti di questo figlio. abbiamo iniziato a ritrovare i primi nipoti già nel 1979 perché erano bambini che erano già stati sequestrati quando in realtà erano già nati per cui esistevano delle foto e tutta una serie di documentazioni. Il mistero più grande e maggiore era cercare di capire dove fossero i bambini nati nei centri di imprigionia Non lo conosciamo, non sabiamo se era un nino o una niña Non sapevamo nemmeno il loro sesso se fossero dei bambini o delle bambine Per questo nasce il Banco Nazionale dei Dati Genetici che è la comparazione della nostra sangue con il possibile niente Per questo sono così importanti gli esami dei dati genetici per mettere a confronto i dati delle nonne e dei nipoti E quello che è successo in Argentina in realtà riguarda tutta l'umanità Quando un bambino o qualcuno scompare tutti quanti si mettono in moto alla ricerca di questo bambino Ci sono 400 persone che non sappiamo dove si trovano Per cui in nome delle nonne di Piazza di Maggio oggi ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui A le autorità dell'università Le autorità dell'università, i nostri cari amici che ci hanno sempre accompagnato nel nostro percorso Compartire con voi questa luce e questo dolore e questa speranza Condividere con voi la lotta, il dolore e la speranza Ci dà la forza di andare avanti con ancora più forza Per la solidarietà non c'è distanza, siamo tutti juntos Per la solidarietà non c'è distanza, si va avanti tutti insieme Muchas grazie per essere qui Sì Grazie.